Buongiorno amici, bentrovati sul canale e quest'oggi torniamo a parlare di bicicletta elettrica, nello specifico della sua manutenzione, perché il video che voglio proporvi oggi sarà un breve tutorial sulla sostituzione delle pastiglie dei freni a disco meccanici della bicicletta. Quindi non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo a vedere il procedimento. Dunque, con una brugola del 5 bisognerà svitare queste due viti, una e uno due. Io ho già provato a svitarle e vi dico già che la prima volta che provate a svitarle mi sembreranno molto dure, proprio perché c'è un punto di colla che tiene ferma la vite sul filetto. Quindi svitate una. Infatti, come vedete, il blu che c'è sul filetto è quel punto di colla che avevano messo per tenere ben salda la vite. Attenzione a non perdere le rondelline, perché le rondelline che ci sono dentro servono per smorzare le vibrazioni, di conseguenza servono a evitare che durante il normale utilizzo della bicicletta, vibrazioni, avvalamenti, buche, saltelli, fanno svitare la vite. Così facendo, abbiamo liberato la pinza del freno successivamente con una brugola del 3 dovrete agire su questa vite qua, che è quella che tiene ferma la coppia di pastiglie all'interno della pinza. Vedete? Facendo uscire questa vite, la coppia di pastiglie sarà libera di essere estratta. A questo punto non c'è più niente che la tiene. Una volta tolta la vite, la girate sotto sopra e usate questo spessorino qua presenti, io ho comprato la coppia di pastiglie alla Decathlon e rappresenta anche questo spessorino qua. Cosa fa questo spessorino qua? Vi permette di infilarlo se riuscite a vedere perché è tutto molto scuro infilarlo al contrario facendo scivolare via le pastiglie vedete? Ma allo stesso tempo tiene spinto il pistoncino come vedete una volta estratte le pastiglie anche quelle che andrete a comprare avranno la coppia di ferodi e questa graffettina in metallo è quella che terrà ferme le pastiglie una volta che le andrete a montare rimontarle faccio vedere è semplicissimo è semplicissimo c'è questa graffettina con l'occhiello che ovviamente andrà dalla parte dove è presente l'occhiello la fate scorrere finché si incastra idem dall'altra parte la fate scorrere finché si incastra così avete vedete? la coppia di pastiglie diciamo tenute insieme dalla graffettina le pastiglie nel mio modello hanno da una parte gli occhielli per far passare la vite che abbiamo smolato prima per per sbloccarle e dall'altra parte queste specie di gancetti che andranno ora vi faccio vedere ad appoggiarsi sull'incavo della pinza stessa guardate per montarle è veramente un gioco da ragazzi le chiudete appena appena le inserite le spingete all'interno dalla loro sede una volta che le spingete in automatico farete saltare fuori lo spessorino fate altro che vedete riavvitare la vite e il gioco è fatto riposizionate la pinza sul disco e con la prugola del 5 andrete a ristringere bene serrando bene queste viti perfetto controlliamo che la ruota giri libera si non fa alcun tipo di rumore io in questo caso ho fatto un rapido tutorial per farvi vedere come si smontano e come si rimontano ho rimontato quelle che avevo già su benché abbia già comprato la coppia di pastiglie non altro le ho comprate perché mi serviva lo spessorino giusto per non adattarmi con altri pezzi di plastica ho utilizzato questo spessorino comunque di per sé è un'operazione semplicissima mi lascio in descrizione l'altro video che avevo fatto sul come registrare i freni a disco meccanici in modo che una volta che le montate se vedete che tocca dentro la pastiglia sul disco piuttosto che centrate bene la pinza e li registrate perché ricordiamolo sempre che l'impianto frenante di un qualsiasi mezzo di trasporto in questo caso della vostra bicicletta è molto importante perché garantisce la vostra incolumità e quella degli altri io in questo video vi ho fatto vedere come smontare dalla ruota anteriore ma idem su quella posteriore non dovete far altro che con la brugola del 5 smollare una e due viti estraete la pinza con la brugola del 3 andrete a smollare questa brugolina qua una volta che liberate la coppia di pastiglie il procedimento è il medesimo che abbiamo appena visto detto questo se vi è piaciuto il video o quantomeno vi è stato utile per imparare una cosa nuova mettete un bel like se volete supportarmi iscrivetevi al canale condividete e come sempre un saluto dal vostro max review a presto ciao ciao